Replica Amici 2018,Quarta puntata online su Video Mediaset Amici 2018 Terza puntata serale, rivedile in streaming su Video Mediaset. Lappuntamento con Cancelletto Amici di Maria De Filippi ritorna in onda questo sabato 28 aprile in prime time con la quarta puntata del serale in diretta tv come sempre su canale 5. . Tante le novità di questo appuntamento che vedrà protagonisti i ragazzi della squadra bianca e quelli della squadra blu, impegnati in una nuova sfida al termine della quale verrà decretato il nome del concorrente che dovrà lasciare definitivamente la trasmissione. . Chi sarà fatto fuori dalla gara? Ecco gli ospiti del serale di Amici 2018 del 28 aprile. In attesa di scoprire il verdetto finale, vi anticipiamo che questa sera nello studio di Amici 2018 arriveranno un bel po' di ospiti. . La prima a duettare con i concorrenti delle due squadre in gara sarà Emma Marrone, che torna al serale dopo aver ricoperto per diversi anni il ruolo di direttore artistico. Un ritorno molto importante per Emma che si cimenterà in una serie di brani che l'hanno portata al successo rivistati con i concorrenti del serale. . Al termine della serata, invece, la cantante si esibirà dal vivo sulle note di Mi Parli Piano il nuovo singolo tratto dal suo album Essere Qui che sarà in circolazione radiofonica dal prossimo 4 maggio e che canterà dal vivo per la prima volta nello studio di Maria De Filippi. . . Ma in questo terzo appuntamento con il serale di Amici 2018 vedremo cantare dal vivo anche il giudice Alessandra Amoroso. . Per questa sera la cantante Salentina si sdoppierà nel duplice ruolo di ospite e giudice del serale e anche lei si esibirà dal vivo con i concorrenti delle due squadre proponendo i suoi successi. . . Rivedi la quarta puntata del serale di Amici 2018 in streaming. . . E poi ancora le anticipazioni ufficiali sul serale di Amici 2018 rivelano che ci sarà l'atteso ritorno di Stefano De Martino, archiviata l'avventura all'Isola dei Famosi nelle vesti di Inviato, ecco che Stefano riapproderà nel regono della De Filippi. . Lo vedremo ballare alcune delle coreografie proposte questa settimana ma il suo non sarà un ritorno ufficiale così come speravano i fan. . . E poi ancora la serata proseguirà con un ospite d'eccezione, parliamo di Fedez che sarà in collegamento da Los Angeles e molto probabilmente con Chiara Ferragni. . La quarta puntata del serale di Amici 2018 di stasera 28 aprile può essere rivista in replica streaming online sul sito web gratuito videomediaset.it oppure su vttv.it, di cui potrete scaricare anche l'applicazione free per rivedere questa e le altre puntate dello show. da telefono cellulare. . 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